Con riferimento al rinnovo del Consiglio Comunale del Sindaco di Manfredonia, importante cittadina in provincia di Foggia, nei confronti del candidato al Consiglio Comunale Matteo Troiano della lista Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, Giovanni Rotice, Sindaco, risulta essere stata pronunciata dal Tribunale di Pescara alla sentenza di condanna divenuta irrevocabile in data 21 marzo del 2015. In forza di tale pronuncia il candidato Matteo Troiano è stato condannato alla pena di anni 4 e mesi 1 di reclusione ed Euro 8100 di multa per il reato di riciclaggio continuato consumato in concorso con altri e ricordo che i reati associativi sono considerati ben più gravi dei reati individuali. Il reato è stato commesso negli anni 2004-2005, pertanto la candidatura di Matteo Troiano si pone in contrasto sia con l'articolo 10,1 lettera E del decreto legislativo 235 del 2012, sia con l'articolo 1 lettera F del codice di autoregolamentazione della Commissione stessa. Occorre precisare da ultimo, ed ecco qua che cosa emerge, che dal casellario giudiziale del candidato il carico di incandidabilità non ne risulta emergere. Ora che cosa significa tutto questo? Significa che i certificati che vengono prodotti dai singoli suppongo, venendo chiesti al casellario giudiziale e venendo poi offerti alle formazioni politiche o civiche per cui questi stessi singoli si candidano, risultano sovente incompleti o non aggiornati. Mi è stato spiegato poc'anzi da un esperto che quando una sentenza diventa irrevocabile, quindi definitiva e inappellabile, c'è necessità che la Procura faccia iscrivere dall'ufficio campione questa annotazione sul casellario giudiziale. Se questa annotazione non viene trascritta, pur essendoci una condanna irrevocabile che quindi rileva i fini dell'impresentabilità o anche dell'incandidabilità secondo la legge Severino, non essendoci annotazione dal casellario giudiziale che è il documento che tantissimi chiedono per capire se uno sia pulito oppure no, mancando l'annotazione non è possibile far l'accertamento. Certo, il singolo, e questo lo dico rivolgendomi a tutti gli amici delle formazioni politiche che stanno con sorpresa verificando come tanti documenti prodotti dall'amministrazione della giustizia risultino incompleti oppure non aggiornati. Il singolo certamente dovrebbe avere memoria di una condanna definitiva ed irrevocabile. E se il singolo non comunica alla forza politica che decide di candidarlo, a mio avviso quella forza politica la dovrebbe immediatamente allontanare da sé e spellendolo o comunque mantenendolo a debita distanza. Questo è un altro dei problemi che è emerso stamattina ed è un problema determinato molto spesso dall'assenza di personale che sguarnisce uffici fondamentali affinché queste annotazioni vengano trascritte appunto sul casellario giudiziale. Come voi capite la situazione non è affatto bella, non è affatto positiva. Ma voglio aggiungermi a Carmiano, a Scanzano Ionico e a Manfredonia ci sono tre casi su cui gli elettori possono decidere in funzione di quanto hanno appreso ora. Certo sarebbe stato meglio dirlo con qualche giornata d'anticipo, ma se noi gli atti e i documenti li abbiamo noi come commissione all'ultimo, perché gli uffici che precedentemente istruiscono un tale lavoro di esame, lavoro di disamina, se i documenti arrivano all'ultimo noi non possiamo farci niente. Però ecco a Manfredonia, Scanzano Ionico e Carmiano fate attenzione perché fra i candidati vi trovate per ogni comune un impresentabile. Tanto dovevo dirvi e tanto v'ho detto.